Era una fredda mattina di metà gennaio, era ancora quasi buio ma in molti erano già pronti per affrontare una dura giornata di lavoro nei campi. Nulla lasciava presagire che da lì a qualche minuto tutto sarebbe drammaticamente cambiato e per sempre. Oggi ricorrono 100 anni dal drammatico terremoto della Marsica che causò più di 30.000 vittime in una comunità che contava 120.000 abitanti. 100 anni per non dimenticare come accadrà oggi in tutta la regione. C'è una grande sensibilità, una partecipazione generale dell'intera comunità pure qui a Bruzzese con il Consiglio regionale presente in tutti i sensi. Ancora una volta le istituzioni democratiche hanno dato segno e senso da dopo questo tragico evento circa 100 anni fa di ricostruire un territorio, la Marsica, i comuni del Reattire e del Frusidate che sono diventati un territorio accogliente e sicuro. A eventi così tragici bisogna porre una cosa e solamente una cosa sola, la prevenzione. Questa mattina alle 7.52 minuti e 43 secondi sono risuonate le campane delle chiese e dei comuni colpiti dal sisma del 1915 e alle 9.30 c'è stata poi la commemorazione della tragedia sul Monte Salviano alla presenza delle istituzioni nazionali, regionali e religiose.